Mezzo milione di euro è una cifra inquantificabile ma fondamentale di generosità. A tanto alla fine ammonteranno i lavori interni ed esterni della Basilica di Sant'Ubaldo a Gubbio che domani pomeriggio a partire dalle ore 17 verranno inaugurati alla presenza tra gli altri del Cardinale Gualtiero Bassetti, del Vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, del Sindaco Filippo Stirati, del Rettore Don Fausto Panfili, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo main sponsor con accanto almeno altre 43 aziende del territorio e della città che hanno contribuito fornendo materiali o lavorando con percentuali di ribasso oltre il 30%. I primi lavori sono partiti due anni fa con la sistemazione dei tetti della Basilica e la dotazione di un sistema di riscaldamento con pompe di calore per il convento, il tutto per un costo che si è aggirato sui 50.000 euro. Quindi la ristrutturazione interna del convento che ha portato alla realizzazione di una nuova cucina refettorio, sala convegni per un importo che allora superò i 70.000 euro. A seguire per un valore pari a 50.000 il rifacimento dell'illuminazione interna ed esterna della Basilica con l'utilizzo di lampade a led che consentiranno un risparmio in bolletta di circa il 70% reso possibile grazie ad un imprenditore ugubino del settore. I lavori sono proseguiti all'esterno partendo dalla sostituzione della vecchia croce in cemento con una tutta nuova in ferro di 8 metri d'altezza completamente illuminata. Quindi la realizzazione di un anfiteatro che aveva come prima finalità quella di consolidare la scarpata ma che di fatto è divenuto uno spazio fruibile per i gruppi che in Basilica si ritrovano per le loro attività. Realizzati anche bagni e docce. Un investimento da 300.000 euro a cui si aggiungerà a breve un altro finanziamento di 50.000 euro per allestire una nuova cucina negli spazi utilizzati per la mossa dei presepi anche questa ad uso dei gruppi che si ritrovano presso la Basilica. Il fine spiega il rettore Don Fausto Panfili è quello di rendere questo luogo così caro agli ugubini un punto di ritrovo e preghiera anche e soprattutto per i giovani che qui possono trovare spazi per ogni loro attività. Ma la Basilica è già quotidianamente uno spazio d'incontro per tanti. I volontari in primis con ogni giorno con la loro opera ne assicurano la manutenzione sia all'interno che all'esterno come atto di devozione al patrono Santubaldo che riposa nell'urna e come gesto di amore per la città. Il programma di domani dopo i saluti dell'istituzione alle 17 prevede il taglio del nastro e la benedizione, l'esibizione degli sbandieratori e la visita alla nuova struttura. Chiuderà un cocktail nel chiostro per brindare alla fine dei lavori.